Ciao, sono Giuseppe D'Antonio, amministratore delegato di Circle Me, Cascade. Circle Me è uno dei start-up che domani mattina, venerdì, presenta. Abbiamo sette minuti per raccontare chi siamo. Siamo un interest-based social network, un mondo web ma anche mobile su iPhone dove gli utenti si collegano non ad altre persone ma agli interessi e passioni che hanno nella vita. Una volta fatto questo collegamento agli interessi e le passioni della vita di quest'utente, l'utente riceve contenuti, notizie su queste cose di interesse e anche indirettamente poi si può collegare o seguire in un sistema che noi chiamiamo di trust della persona persone che condividono gli stessi interessi o che magari possono portare all'attenzione di quest'utente anche nuovi interessi. Sono qua perché, beh, prima di tutto ovviamente è un onore essere qua quindi siamo stati invitati e questo è stato veramente molto piacevole. vogliamo che il mondo cominci a conoscere chi è essere con me, crediamo molto in un futuro in cui sia il più importante non il collegamento superficiale tra le persone ma il collegamento tra una persona e tutte le passioni che ha nella vita perché poi alla base dei rapporti personali, quindi proprio dei social networks ci sono prima di tutto, secondo noi, le passioni e gli interessi. Prima ti piace una cosa specifica e poi conosci persone in base a questi interessi. Io lo noto almeno da un paio d'anni che il cambiamento e la proliferazione di start-up è estremamente elevata. Mancano delle cose ancora importanti quindi anche è bello quello che ha detto oggi il ministro Passera sul fatto che la burocrazia va decrementata, il digital divide dovrebbe essere eliminato entro il 2013, speriamo. se fosse vero veramente questo darebbe un grande impatto. C'è una cosa che manca importante e che io nel caso specifico sento di più in questo momento perché stiamo facendo fundraising, non c'è quella catena degli investitori come c'è in altre nazioni tipo gli Stati Uniti dove in qualunque livello dello start-up la persona e lo start-up specifico può comunque trovare finanziamenti.